bentornati amici youtube il video di oggi sarà molto breve è un tutorial su come sostituire la batteria di questa chiave elettronica della toyota prius è la seconda versione uscita in italia la terza uscita nel mondo cioè la versione uscita nel 2009 la penultima che ora in circolazione è piuttosto facile perché la toyota ha studiato bene alcune cose vedremo secondo me amane un'altra bisogna schiacciare vedete qua c'è scritto push per far uscire la chiave questa è una vera e propria chiave meccanica che può servire per aprire la portiera quando non funziona il servizio elettronico di apertura degli portelli perché l'ho tirata fuori perché serve per aprire anche questo telecomando vedete questa parte per sempre la fessura si infila la parte più sottile della chiave che è fatto apposto per fare oltre ad aprire la portiera anche per fare questa cosa qua si dà una rotazione ai pochi gradi e si aprono i due gusci prende due gusci si vede il telecomando all'interno dove c'è la fila da sostituire e questo secondo me la scelta sbagliate che ha fatto toyota nel senso che questa pila è una 16 32 e si fa sempre abbastanza fatica a trovare ma si trova su internet ma nei negozi non è così diffuso come la più diffuso appunto 16 32 o altri modelli detto questo basta sostituirla per togliere la pila vecchia basta forzare un attimino queste due linguette possiamo usare sempre la chiave ecco si è già aperto prendiamo la pila nuova col più verso l'alto e segnato il più si infila e prego da questa parte lo si schiaccia ed è già agganciato ora devo rimettere su questa membrana i pulsanti devono corrispondere a quel pulsante ovviamente poi premendo i due gusci si incastra l'uno con l'altro per ultimo si rinfila la chiave al proprio posto operazione fatta spero di essere stato utile un saluto e alla prossima